Ciao a tutti e benvenuti su Semprina Biki come vedete oggi non sono praticamente truccata infatti è domenica, sono rimasta a casa e quindi molti di voi spesso mi hanno chiesto se anche a casa mi trucco come mi presento quando sono in casa in una giornata in cui non ho assolutamente voglia di truccarmi e questo è il risultato ci tenevo quindi anche a fare un video senza trucco per farvi vedere che anche io come voi ho giornate in cui non amo particolarmente truccarmi o in cui dedico del tempo a fare altre cose oggi per esempio è stata la giornata della casa e dei bambini e poi per farvi vedere anche com'è la mia pelle al momento io sul viso non ho assolutamente nulla ho solamente utilizzato un po' di polvere sulle sopracciglia perché mi piace averle definite anche quando sono in casa per il resto però non sono assolutamente truccata ho solamente un po' di burro cacao per idratare e proteggere le labbra la mia pelle come vedete è migliorata tantissimo e ve ne parlerò in un video a parte perché sto utilizzando una routine di skin care a mio avviso molto valida e siccome molti di voi me l'hanno chiesto sicuramente farò un video sulla cura della pelle per la mattina e la sera in realtà però il video di oggi è dedicato assolutamente ad altro come sapete novembre infatti è il mese in cui praticamente tutte le case cosmetiche escono con le collezioni natalizie all'interno dei negozi voglio quindi farvi vedere alcune delle collezioni natalizie che io già ho e che sono assolutamente fantastiche perché è il momento giusto per andare nelle profumerie e cominciare a cercare questi prodotti perché come sapete sono edizioni limitate e stagionali e quindi se siete interessati all'acquisto questo è il momento giusto la prima collezione di cui ho voluto parlarvi è quella di Dior si chiama le Rouge Or ed è caratterizzata da 4 smalti differenti e 5 tonalità di rossetto nuove io purtroppo non le ho tutte ho 4 rossetti e 3 smalti ma vi voglio far vedere comunque quelli che ho perché sono veramente molto belli immagino che conosciate già tutte le confezioni degli smalti Dior anche se non avete visto magari ancora queste particolari colorazioni le confezioni sono fatte in questo modo e come tutti gli smalti di alta profumeria sono caratterizzate dall'avere un sovratappo in plastica che serve per coprire il tappo reale a livello estetico e quindi assicurarsi che lo smalto sia sempre effettivamente ben chiuso la collezione Rouge Or è stata creata da Tienne che è il direttore artistico della Maison Dior ormai da 30 anni e che ha voluto rendere diciamo omaggio a uno dei colori utilizzati da Dior da sempre sia per quel che riguarda gli abiti ma anche un po' in tutte le sue collezioni l'oro infatti lo vedete ad esempio trionfare in una delle campagne più famose della Maison che è ad esempio quella del profumo J'adore con l'oro hanno voluto giocare tantissimo infondendolo all'interno delle formule dei rossetti e degli smalti per creare questi pigmenti di luce quindi andare a creare delle nuove tonalità di colore molto illuminanti e anche molto festive queste infatti secondo me sono dei colori perfetti per la stagione a ridosso del Natale e adesso vi farò vedere anche gli smalti in realtà già i colori stessi a me ricordano personalmente l'albero di Natale ad esempio quindi li trovo assolutamente fantastici non solo come formula ma anche come colorazioni queste sono tre colorazioni che adesso vi faccio vedere anche sulle mani con i relativi swatch e che a me personalmente ricordano veramente tantissimo le feste sono un'ottima alternativa per quel che mi riguarda i classici smalti glitterati che magari tendiamo ad indossare un po' più spesso sotto il periodo di Natale per essere un po' più festive perché vi permettono di essere comunque molto eleganti e in ogni caso assolutamente ricercate quindi queste sono delle colorazioni assolutamente valide come alternativa ai classici e forse più banali smalti con i glitter il primo è il numero 221 e si chiama Ordeveen e questo è lo smalto indossato sono due passate di smalto con al di sopra un lucido trasparente come vedete è una tonalità dorata ma assolutamente nuova e insolita perché ha questo effetto metallizzato cangiante ma resta comunque abbastanza chiara come tonalità il secondo colore che a mio avviso è bellissimo e mi ricorda veramente l'albero di Natale il numero 611 si chiama X Squeeze ed è fatto in questo modo anche questo due passate con sopra un lucido ma come vedete spero che in camera si veda è bellissimo perché quando viene colpito dalla luce ha queste tonalità e questi riflessi dorati fantastici quindi è un colore assolutamente particolare forse lo vedete meglio dalla boccetta il terzo e ultimo colore che io possiedo è questo, il numero 871 e si chiama Aparà e in questo caso invece l'ho indossato su tutta la mano perché è quello che credo che indosserò poi per questi giorni quindi toglierò lo smalto su queste mani e indosserò questo ed è un colore bellissimo a parte il fatto che è molto elegante e mi ricorda anche tantissimo delle pietre preziose perché ha queste tonalità un po' cangianti e metallizzate, fantastiche e poi anche questo come vedete quando viene colpito dalla luce ha dei riflessi dorati bellissimi che ritrovate anche all'interno della confezione che forse in camera si vedono meglio questo è un colore che a mio avviso per il periodo di Natale è veramente fantastico quindi se cercate un rosso un po' particolare diverso dal solito rosso un po' piatto magari lucido è un po' più festivo un'alternativa secondo me è validissima per i glitter e anche per essere un po' più ricercate ed eleganti è questa senz'altro per quel che riguarda i rossetti invece i rossetti sono usciti in 7 nuove colorazioni io purtroppo non le ho tutte, vi farò vedere solamente 4 di queste anche queste seguono lo stesso principio e sono fantastiche peraltro in abbinata agli smalti perché anche le formulazioni di queste rossette sono tenute oltre alla classica colorazione diciamo tipica dei rossetti Dior questa polvere dorata che le rende fantastiche come colori per il periodo natalizio la prima colorazione che vi voglio far vedere è la numero 758 si chiama Constellation ed è questa tonalità arancio con dei riflessi come vi dicevo dorati in camera purtroppo almeno per quel che riguarda i rossetti temo che non si vedranno benissimo questo è lo swatch il secondo colore è l'841 si chiama Belle de Nuit questo invece è l'arancio secondo me se vi piace questa tonalità che contiene più polvere, più riflessi dorati in assoluto e che rimane a mio avviso anche un po' più spento quindi più portabile sicuramente è lo swatch come vedete la tonalità è molto più aranciata ma vi assicuro che dal vivo dei riflessi dorati bellissimi il terzo colore è il numero 527 e si chiama Versailles questo è in assoluto il mio preferito della collezione perché come sapete io amo le tonalità un po' più neutre, un po' più nude ed è questo bellissimo color carne tra virgolette con questi riflessi dorati meravigliosi è fatto in questo modo e l'ultimo colore è il numero 217 Or Etoile che è ovviamente inabbinata allo smalto dorato e che regala appunto questa tempesta d'oro sulle labbra in cui potete enfatizzare altri colori o addirittura portarla così sulle labbra l'effetto è veramente molto piacevole non dà un effetto strano per il fatto di avere questa base giallo dorato è veramente bellissimo e potete utilizzarlo ad esempio se volete creare dei punti luce meravigliosi nella parte centrale delle labbra o sulle punte superiori perché in questo modo darà un tocco di luce a qualsiasi colore voi utilizzate al di sotto tutte le formulazioni poi mi piacciono molto perché sono a metà tra il satinato e il lucido sono molto cremose, assolutamente portabili e per niente difficili da indossare o da ritoccare anche durante la serata quindi questi sono dei rossetti che se anche avete ad esempio una cena fuori potete tranquillamente portare con voi senza pennellino né altro perché si stendono veramente benissimo come vi dicevo potete creare poi delle abbinate perfette tra le mani e le labbra perché i colori della collezione sono studiati per essere appunto perfetti anche da portare insieme come vedete e sono veramente a mio avviso meravigliosi se dovessi scegliere fra le colorazioni proposte in collezione sicuramente quelle che vi consiglierei di andare a svocciare e di acquistare sono quelle anche considerate un po' più insolite e quindi magari più difficili da ritrovare anche in altri marchi o comunque in altri prodotti simili sicuramente questo rosso oro perché è bellissimo per quel che riguarda le mani e per le labbra senza esitazione sicuramente questo colore dorato e questo colore un pochino più nude con dei riflessi dorati dal vivo assolutamente bellissimi spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile lasciatemi come al solito i vostri commenti qui sotto se acquistate qualche pezzo della collezione o se avete modo di vederli fatemi anche sapere qui sotto qual è il vostro preferito in termini di colore e anche di prodotto quindi se avete preferito gli smalti o i rossetti e se vi va invece ci vediamo al prossimo video ciao